buongiorno buonasera o buonanotte a tutti e bentornati su segreti da chef già conoscete la cottura a bassa temperatura e in che cosa consiste e quali sono i grandi vattaggi che questa tecnica ci consente di ottenere e quali sono gli strumenti che dobbiamo avere a disposizione per poterla eseguire se così non fosse vi invito a vedere altri video nel canale dove vi illustrerò tutto in questo video andremo ad analizzare nel dettaglio come determinare e calcolare il primo dei due fattori la prima delle due variabili fondamentali che noi dobbiamo saper gestire assolutamente quando andiamo ad effettuare una cottura sotto vuoto a bassa temperatura le due grandezze fondamentali che noi possiamo impostare all'interno del nostro runner e che sono le uniche due variabili che noi possiamo realmente gestire quando effettuiamo questo tipo di cottura sono la temperatura e il tempo questo video è determinato la determinazione allo studio e al calcolo della temperatura che è la prima di queste due variabili fondamentali quindi andremo a capire nel dettaglio come facciamo a determinare in modo scientifico ed estremamente preciso la temperatura da impostare nel nostro bagno termostatico a seconda del tipo di cottura che noi vogliamo andare ad effettuare se vi piace quello che vi propongo e volete sostenere il canale in modo totalmente gratuito vi invito a valutare qualora ne avete bisogno la possibilità di fare acquisti tramite il link di amazon di attrezzature cbt e o attrezzature generali di cucina che trovate qua sotto nella descrizione e cliccando ed entrando nel mio canale telegram dove pubblico personalmente offerte vantaggiose come detto tutto questo a voi non costerà assolutamente nulla di più anzi poteste trovare delle super offerte mentre a me amazon mi riconosce una piccola percentuale per avervi fatto pubblicità vi ringrazio anticipatamente se ne farete uso ma ora procediamo spediti e continuiamo col capire come determinare la temperatura del nostro runner per fare questo dobbiamo tenere presente diversi fattori i tre fattori fondamentali che vanno a determinare quella che sarà la nostra temperatura selezionata sono la denaturazione della proteine ovvero quello che succede a livello molecolare all'interno della nostra carne o del nostro pesce quando lo sottoponiamo ad una determinata temperatura il livello di cottura che quindi è un fattore fondamentale legato a quello che il nostro gusto c'è a chi piace una carne un po più al sangue chi la preferisce ben cotta e l'ultimo fattore non trascurabile che è quello della sicurezza quindi ovviamente almeno che la carne o pesce non siano stati precedentemente abbattuti è necessario sottoporli per un tempo minimo ad una determinata temperatura per ottenere quella che viene chiamata pastorizzazione ovvero l'eliminazione quasi totale di tutti quelli che possono essere i batteri nocivi che sono all'interno della carne che ci consentono quindi di poterla consumare in modo non soltanto gustoso ma anche e soprattutto sicuro allora iniziamo con il vedere che cosa succede a livello molecolare all'interno della nostra proteina per esempio una fetta di carne immaginiamo di una carne di maiale piuttosto che di bovino e sappiamo che la carne è costituita fondamentalmente per il 70 75 per cento da acqua liquidi per circa il 5 per cento da grassi e altri elementi e quindi per un 20 per cento circa da proteine le proteine sono di diverso tipo quelle tre fondamentali che interessano a noi sono le proteine di tipo miofibrillare le proteine del reticolo sarcoplastico quindi proteine sarcoplasmatiche e le proteine del tessuto connettivo ognuna di queste tre proteine va a modificare quanto sottoposto una determinata temperatura e in alcuni casi una certa temperatura che ci fa ottenere degli effetti positivi in altri casi invece degli effetti degli effetti totalmente negativi che sono quelli che appunto noi vogliamo assolutamente evitare effettuando una cottura a bassa temperatura iniziamo a vedere cosa succede alle proteine miofibrillari quindi le miocina e le actina queste sono fondamentalmente quei filamenti che costituiscono le fibre muscolari e che consentono di poter muovere gli arti quindi capendo che rilassando queste fibre noi di fatto andiamo a muovere i muscoli dagli arti che a queste sono connesse a queste proteine come ho spiegato reagiscono alle temperature e abbiamo un effetto che in range di temperature tra i 40 ai 60 gradi causano fondamentalmente una contrazione di tipo trasversale quindi un distanziamento tra le fibre muscolari che è un effetto innocuo o in alcuni casi addirittura positivo perché aumentando lo spazio tra le fibre noi riusciamo a trattenere all'interno del muscolo quindi del nostro pezzo di carne una maggiore quantità di liquidi l'effetto contrario è esattamente l'opposto lo otteniamo quando iniziamo a superare i 60 gradi perché si va ad attivare il movimento di contrazione longitudinale della catena che va fondamentalmente a causare un effetto che come quello di strizzare il muscolo causando quindi la perdita la maggior parte dei liquidi che adesso sono contenuti e quindi rendono le nostre carni molto meno succose questo è l'effetto che noi otteniamo quando per esempio mettiamo una fettina di carne in una padella rovente magari a 100 120 gradi e vediamo che immediatamente questa va a perdere del liquido ed è esattamente uno dei principali problemi che noi vogliamo evitare infatti il motivo per cui scegliamo la cottura a bassa temperatura è questo e poi otteniamo degli altri effetti positivi infatti le proteine del reticolo sarcoplasmatico con le proteine sarcoptiche in generale hanno un effetto di aggregazione tra di loro che porta a una sorta di gelatificazione quando ci muoviamo in un range di temperature intorno ai 40 60 gradi quindi fondamentalmente arrivare fino alla temperatura di 60 gradi provoca un effetto positivo perché gelatifichiamo queste proteine e rendiamo la carne più morbida effetto simile avviene con la proteina del tessuto connettivo in realtà dobbiamo fare una distinzione perché ci sono alcune proteine che sono proteine solubili che fino a una temperatura di 60 gradi gelatificano e ci sono invece delle altre proteine che sono molto più elastiche soprattutto nella parte dei muscoli antagonisti e quando sottoposte a una temperatura che si avvicina ai 65 gradi iniziano a trasformarsi in una sorta di gomma e quindi otteniamo quell'effetto che è quello che assolutamente vogliamo evitare vi sarà capitato sicuramente di mangiare dei pezzi di carne che anche masticandoli per diversi minuti in bocca l'effetto meccanico dei denti non riesce a frantumarli come invece avviene con delle carni molto più morbide e gelatinose questo avviene perché probabilmente queste proteine del tessuto connettivo di tipo più elastico si sono andate a non acidificare ma a indurire in una sorta di gomma passiamo quindi al secondo grafico che ho realizzato per voi dove vediamo alcuni fattori che fondamentalmente si vanno a riassumere quelle che abbiamo visto cioè per quanto riguarda la cottura delle carni che siano bianche o che siano carni rosse dobbiamo muoverci in un range di temperature estremamente ristretto come abbiamo visto dobbiamo cercare di superare una temperatura di almeno 55 gradi per avere quegli effetti positivi di morbidezza gelitificazione delle proteine che rendono la nostra carne più morbida ma dobbiamo fare di tutto per rimanere soprattutto per le carni rosse al di sotto di una temperatura di 65 gradi sopra la quale andiamo a ottenere una serie di effetti negativi tra cui l'indurimento la perdita dei liquidi e la gommosità della stessa carne il secondo fattore che invece noi dobbiamo tenere sempre presente quando andiamo a cucinare la nostra carne sottovuoto è quello ovviamente del nostro gusto quindi da questo schema già possiamo vedere un'indicazione a quelle temperature otterremo una carne al sangue a quali temperature una carne più cotta e a quali una carne diciamo con un livello di cottura medio ho trovato online un'immagine che vi riporto adesso qui in sovraimpressione dove fondamentalmente potete vedere a varie temperature con una scala di 2 gradi per ogni grado di cottura quello che succede a un pezzo di carne rossa in questo caso come mostrato nel grafico precedente e come spiegato a livello molecolare i cambiamenti che avvengono si vanno a manifestare in modo molto evidente in questa fotografia perché potete vedere che anche a livello istintivo possiamo capire che carni cotte a temperatura sopra i 60 gradi cominciano a diventare più stoppose meno succose e forse anche troppo cotte mentre carni cotte a temperature più basse dei 54 55 gradi sono delle carni che possono rischiare di essere crude quindi in questo range estremamente ristretto di pochi gradi noi dobbiamo andare a selezionare il nostro grado di cottura determinando qual è la nostra temperatura preferita questa è una cosa legata essenzialmente al gusto rimane l'ultimo fattore da tenere sempre a mente che è il fattore della sicurezza allora io per fare questo vi presento un ultimo grafico di questo primo video dedicato appunto alla determinazione della temperatura dove ho rappresentato con tre diverse curve quella che viene chiamata curva di pastorizzazione allora questo grafico è frutto di tanti giorni di studio perché purtroppo nonostante la pastorizzazione sia un fenomeno estremamente conosciuto e noto quasi a tutti si rischia di trovare negli standard di pastorizzazione prevalentemente per delle preparazioni del settore caseario quindi formaggi piuttosto che latte o magari nel settore vinicolo diverso è quello che succede per quanto riguarda le carni o il pesce perché normalmente sono alimenti che vengono venduti crudi e quindi è il consumatore finale ad assumersi di fatto la responsabilità di cuocere questi alimenti nel modo corretto e renderli sicuri prima di tutto fondamentalmente bisogna conoscere quelle che sono le temperature e le tempistiche alle quali i vari batteri che sono presenti nella carne o nel pesce vengono uccisi o vengono eliminati quantomeno per la maggior parte quindi per renderle fondamentalmente sicure da questo incrocio di tempi e temperature per i vari batteri che sono presenti all'interno dei vari tipi di carne sono andato a ricavare queste curve le ho poi confrontate con altri studi e ho riscontrato che c'è un'esattezza quasi scientifica ovviamente nel determinare esattamente poi il punto della curva è sempre meglio mantenersi nella parte della regione quindi cuocere magari la carne per qualche minuto in più per una maggiore sicurezza come vedremo nel secondo video che dedicheremo al tempo quindi alla determinazione del tempo di cottura nella cucina sui un tempo poco più lungo comunque non va a creare delle grandissime differenze nel livello di cottura cosa che invece avviene quando andiamo a determinare la temperatura quindi voi vi chiederete perché mi stai mostrando questo grafico nel momento in cui la pasteurizzazione un fattore che dipende essenzialmente dal tempo perché in realtà anche la temperatura importante per ottenere la pasteurizzazione veloce se noi vogliamo cuocere ad esempio del pesce e non vogliamo superare una temperatura di 55 56 gradi possiamo vedere da questa curva che dobbiamo mantenere tutte le parti del nostro pesce finché la temperatura è penetrata all'interno per un tempo che è di circa 180 minuti quindi tre ore quindi noi già sappiamo che nel momento in cui decidiamo di scegliere la temperatura bassa perché magari vogliamo tenere un effetto di una carne abbastanza cruda e che elimina e diminuisce al minimo la perdita di succosità ma di contro avremo dei tempi d'attesa molto lunghi perché di fatto tre ore è soltanto per la pasteurizzazione invece andando a temperature magari soltanto di un paio o di un grado più alta anche per esempio andando a 56 gradi già otteniamo un tempo che è di 115 minuti quindi poco meno di due ore quindi la temperatura è un fattore meno importante per la pasteurizzazione perché in quasi tutta la fascia delle temperature noi riusciamo ad ottenere comunque una pasteurizzazione è possibile ottenere una pasteurizzazione ma una temperatura bassa equivale a un tempo esponenzialmente più lungo per ottenere questo grado di sicurezza fondamentale nella cottura delle nostre carni allora io spero che tutto quello che vi ho spiegato sia stato abbastanza chiaro che siate riusciti a capire quali sono questi fattori fondamentali con i quali noi dobbiamo andare a determinare la temperatura seguitemi nei prossimi video in cui andremo ad analizzare altri fattori fondamentali e uno di questi sarà il tempo una volta che avrete capito come studiare come calcolare in modo esatto e scientifico questi due valori di fatto conoscerete tutto quello che bisogna conoscere sulla cottura a bassa temperatura quindi andremo magari nei prossimi video a vedere degli esempi concreti e realizzare delle tabelle che condividerò con voi per un utilizzo molto più pratico immediato senza che ci sia necessità ogni volta di andare ad effettuare dei calcoli con dei graficci alla mano per poter di fatto essere capaci in modo consapevole e scientifico di ottenere la temperatura e il tempo giusto per le vostre cotture per il momento vi ringrazio e vi invito se non l'avete già fatto a mettere un like condividere il video e a seguire il mio canale attivando la campanellina per non perdervi i prossimi video piatti chiari e amicizia lunga al prossimo video ciao